i nostri nuovi amici si chiamano don francesco palo e don giuseppe vaccarini e sono fratelli come state? siediti allora a casa poiché io conosco il nostro pubblico e anche qui studio si staranno chiedendo chi mai saranno vaccarini entrambi lo stesso cognome sono due fratelli di una famiglia che io non so definire perché in questa famiglia pensate di fratelli sacerdoti ce ne sono quattro questo per svelare solo la prima parte della storia posso cominciare allora? intanto vi dico da dove venite don francesco palo vaccarini è il paroco di san pietro a terni e invece don giuseppe è il paroco dell'immacolata san biaggio a musano adriatico si don francesco palo posso cominciare da lei? quattro vocazioni in una famiglia ma siete stati costretti è sceso lo spirito santo a benedirvi avete sentito la carezza di dio mi faccia capire cosa è successo nella sua famiglia tutto tranne la costruzione mettiamolo chiaro allora tutto tutto il bene cioè lo spirito santo e la nostra storia umana che è andata avanti con la grazia di una famiglia che è stata formata da padre pio di pietarcina la mia genesi la nostra genesi questa voi andavate spesso da padre pio tutti gli anni più volte l'anno anche durante l'estate stavamo lì ho servito la messa padre pio più volte perché trovavate il bisogno di andarci proprio la nostra ricarica prima di tutto perché il babbo e la mamma erano legati a questo ci hanno dato l'esempio anche della preghiera della fede di cercare la volontà di dio non solamente quello che sembra noi possibile accettabile per cui è stato all'inizio un'educazione di fede poi dopo avevamo sentito il bisogno di andarci io sono confessato tante volte a padre pio ho fatto proprio direzione spirituale con lui ho parlato anche più volte della mia vocazione con lui cosa le rispondeva padre pio c'è che dovevo crescere che doveva aspettare crescere si doveva atturare e lei lo ha fatto perché poi non è entrato il seminario subitissimo come era nelle sue intenzioni ma 19 anni non sono entrato agli appena finita l'elementari sono entrato nei cappuccini a imola poi a faenza e poi dopo sono uscito cercavo la strada ancora della mia vocazione e prima di uscire mi sono incontrato con padre pio l'ultima volta è stato nel 68 poco prima che morisse mi ha rispettuto le stesse cose che mi ha detto quando avevo 11 anni queste cose mi ha detto e ancora c'è da fare insomma don giuseppe allora il primo il più grande che si fa sacerdote e poi questo io torno a parlare di spirito santo io non so come definire questa presenza perché un papà e una mamma che si amano alla follia l'uno lo specchio dell'altro religiosi ma nel senso che hanno bisogno della presenza di dio che quando si tratta è andata a messa tutti i giorni e poi arriva anche la vocazione per lei come se ne come se ne accorge come la comunica a casa era già come dire tutto scritto suo papà la sua mamma se l'aspettavano che cosa succede mia mamma era già in paradiso quindi il ma io fin da fin da piccolino sempre non non ho mai pensato al seminario perché non mi piaceva come ambiente non perché il seminario fosse brutto ma perché eravamo molto attaccati come fratelli e sorelle vedere i due fratelli più grandi che erano sempre fuori casa questo mi dava molto fastidio infatti andavamo anche tutte le settimane a trovarli però non bastava insomma però dall'insegnante di religione al liceo mi ha fatto una domanda a bruciapelo durante la ricreazione ho detto ma non ho mai pensato a diventare prete e in quel momento sono andato a ritiro era il penultimo anno del liceo classico e da lì ho iniziato una riflessione che probabilmente latente ci poteva essere però e quindi anche se non mi piaceva molto l'idea del seminario però l'idea di diventare sacerdote di di rendermi disponibile per il signore per gli altri mi piaceva molto tra l'altro ho fatto un'ultima esperienza anche molto bella come animazione in parrocchia con i miei coetanei o ragazzi più giovani di me quindi ha capito che quella era la sua strada ma dopo come diceva francesco c'è da camminare insomma quindi cinque anni di seminario sono stati abbastanza duri per me per un fatto caratteriale perché insomma è un po discolo o perché no ma no 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 assolutamente io ho sempre stato molto buono molto bravo e beh è bellissimo se lo dica perché sia così bellissima questa immagine che scorre mamma se ne va molto presto l'ultima sorellina aveva cinque anni anche se la faccia lì un po birichina perché se vede un po scugnizzo si vede un po scugnizzo questi sette fratelli abbiamo detto quattro maschi tre femmine di cui una consacrata laica e due che invece hanno i nipotini succede qualcosa di veramente incredibile perché vi ho detto preparatevi perché papà che fa da papà e da mamma questi figli se li vede crescere li vede donati al signore ad un certo punto sente forte quella chiamata papà e don probo e in questo servizio credo incantevole permettetemi di dirlo di simona mulazzani c'è tutto il senso della storia di amore di questa famiglia nei confronti di dio il papà di questi quattro sacerdoti e appunto don probo dicono che c'è un tempo per seminare e uno che hai voglia ad aspettare un tempo sognato che viene di notte e un altro di giorno teso come un lino a svegliare i bambini infatti io sono un po limitato ma non ho bevuto di più ci scivolava bene la cittica e gli era tanto ma c'era una armonia e saper raccontare ai nostri bambini quando è l'ora muta dell'effetto io ero contento perché a tutti questi bambini attorno lo sentivo che lui era contento e mia moglie avrò fatto una fatica a supportarmi perché ero chiuscioso anche se ero a tutti i bambini la mia moglie è sempre stata il primo posto e non è morta per me è sempre viva papà è stato veramente una figura che ci ha fatto sentire che il cielo era più vicino di quello che possa potremmo pensare quindi che comunque cielo e terra sono collegati e quindi questo in qualche modo ha fatto sentire che la mamma era comunque era ci stava accompagnando mio papà è diventato sposo sapendo che voleva dire abbracciare cristo quindi mi aveva vissuto anche la vedovanza in maniera molto come una vocazione io sinceramente ho pensato sempre che fosse una strada che era proprio indicata da sempre quindi mi ha spaventato e quando è arrivato al sacerdossio era la conferma di questa strada sono andato proprio perché tutti erano andati a me mi hanno lasciato fuori e io ci sono anche io si sorrideva lui mi sorrideva quasi mai ma mi sorrideva sempre il signore ha lavorato ha lavorato davvero come voleva lui con tutta la sua fantasia la sua creatività che soltanto lui può avere perché noi noi non possiamo pensare infatti vedendo i risultati ma come è possibile non lo so come sia possibile questo so soltanto che c'è stato questo percorso forse è una rispondere a una grazia questo si rispondono a grazia che ti chiama dove sei nel luogo in cui sei no per me è stata la famiglia è stata la scuola mi sento sorella e di miei fratelli ma anche forse di più di una sorella la mia parola che la dico sempre io io la messa la sento la sento vivo perché la messa la messa la sento colmito questo è il mio corpo lo guardo non più con un sorriso con gioia perché so che non ho più davanti un po di pane mi ha detto ciao Gesù tutta la cosa credo sia una delle cose più belle e incantevoli che siano passate in questo studio questo è il senso dell'essere cristiani e tutta un'altra cosa Don Francesco Paolo quando papà vi annuncia che voleva che sentiva forte questa chiamata che reazione avete avuto voi figli sinceramente sono rimasto un po perplesso perché non me l'aspettavo non me l'aspettavo anche se padre pio il giorno del matrimonio prima quando il babbo chiedeva sulla sua vocazione prima di sposarsi a un certo momento ha detto il babbo dopo un certo cammino con padre pio padre se diventasse sacerdote perché io volevo sposarmi ma adesso con la scuola che ho fatto con lei non trovo la ragazza giusta padre pio gli ha detto e sposati e subito ha trovato la mamma con la priera e con la grazia proprio del signore e poi dopo ha fatto questo cammino con sposato con sette figli uno l'ottavo è morto al terzo mese di gravidanza quando la mamma già stava male l'ha perduto spontaneamente e me l'aspettavo proprio Don Giuseppe che sacerdote è io credo che sia qualcosa di così straordinario che io faccio fatica anche a fare le domande stamattina glielo dico con il cuore perché sto parlando di quattro fratelli sacerdoti questo lo dico a casa perché si fosse messo in contatto con noi soltanto adesso e poi un papà sacerdote e diventa anche un maestro in quel caso cosa significa io lo posso chiedere avere un papà che sacerdote che è don probo io veramente non mi sono mai confessato al mio babbo lui sì qualche volta che da me papà lei ha confessato il suo papà oddio mio questo non ci avevo pensato tra fratelli e babbo c'è uno scambio in questo senso e io sono sempre stato un po' scanzonato anche con lui quando lui ha detto cosa dici che divento prete ma hai 69 anni cosa vuoi diventare prete devi andare in pensione e lui ha detto proprio quelle cose che mi ha insegnato nel servizio cioè celebrare la messa non è solamente è tutto quindi al di là di quello che posso fare fisicamente e poi è andato avanti per oltre 30 anni come parroco non ha rubato niente la famiglia il fatto di avere di avere un papà prete assolutamente no forse i nipoti non lo so che abbiamo cinque nipoti che reclamano il nonno perché così deve essere così deve essere don francesco paolo sua sorella questa intervista bellissima due volte o tre volte addirittura ripete la grazia io sto tarlo mi è entrato che vuol dire la grazia nella vostra famiglia come la spieghiamo a chi non crede la grazia è che quando io ogni giorno mi alzo il mattino non sono io che faccio tutto io partecipo aiuto la grazia perché basterebbe un niente perché oggi vediamo la precarietà della vita in tutti i sensi non ce ne diamo conto che che c'è un signore che ci tiene sempre per mano e ci dice adesso fa però la parte tua questa l'esperienza di una di un papà grande che non ti lascia mai ma che ti sorregge sempre ma chiede però tutta la tua collaborazione ma vi guardano come degli alieni come delle persone venute da marte com'è che ma il problema è che ognuno deve fare un po al suo cammino e effettivamente l'abbiamo fatto per diventare sacerdoti perché ognuno di noi ha fatto un cammino completamente diverso dall'altro e poi questo qui già fa capire tante cose che non è una costruzione come diceva francesco prima ma è il signore che che alla fine ci mette davanti a certe scelte e come diceva il babbo l'importante che la fai bene quando sono entrato in seminario perché non serve soltanto entrare tutto il resto e la fatica mi raccomando cammina bene però se no decidi prima di non fare di fare altro di tornare indietro è giusto che i vostri nipoti che rapporti avete molto bello almeno per me insomma vedo che c'è questo bel rapporto non solamente tra fratelle e sorelle ma anche con i nipoti siamo molto molto attaccati poi anche loro ognuno un po la sua strada noi siamo tutti diciamo con scelte religiosamente molto marcate i nipoti bisogna rifare un po il loro devono fare senza influenze così come non ne avete avute voi perché attenzione la mia domanda sulla costruzione è quella di una persona che forse banalmente dice come mai può essere caduto tutto questo don francesco palo la carezza di padre pio non dico la benedizione ma anche quello è il fatto di aver avuto quella sua mano sulla testa soprattutto papà comporta delle responsabilità comporta come dire un richiamo maggiore nel rigardritto mi piace questa cosa che papà le dice come quando ci si sposa che papà dice avete fatto quello che volevate adesso mettete adesso una vita diversa vi comporta delle responsabilità in più o vi aiutato l'uno e l'altro l'uno e l'altro perché ho detto che la grazia di dio non è torna la grazia allora io ho visto che la nostra vita è stata sempre un impegno di responsabilità continuo anche da piccolini io mi ricordo quando giocavamo studiavamo certamente arrivava il babbo così all'improvviso diceva con chi sei lasciami fare adesso sto facendo questi compiti lasciami concentrare con chi sei dopo mi ricordavo la seconda terza volta sì sono con gesù cioè di ricordarsi di fare tutto con il signore quindi è stata un'educazione un aiuto proprio familiare non è che è venuto tutto spontaneamente pregavamo diciamo rosario insieme il rosario insieme alla sera poi anche al mattino andavamo più delle volte alla messa e a servirla anche da piccoli prima di andare a scuola addirittura però dopo una volta che abbiamo sì prima di andare a scuola dopo una volta che abbiamo preso una certa abitudine così dopo è stata tutta la scelta nostra e con che ci sentiamo la responsabilità della missione dell'avvocazione in cui dobbiamo mettere tutto il nostro cuore il nostro impegno Don Giuseppe posso farne una domanda a bruciapelo ma voi siete l'eccezione assoluta siete qualcosa forse anche di ripetibile per certi aspetti o tutto quello che è capitato alla vostra famiglia secondo lei nelle stesse condizioni potrebbe capitare anche oggi Sì cioè non c'è niente di garantito nel senso che abbiamo bisogno di ogni giorno di fare la nostra scelta la nostra decisione allora il pericolo può essere proprio questo qui quello di adagiarsi un po' come una situazione eccezionale che quindi viviamo con tranquillità e mi ricordo invece ogni giorno la passione che il babbo ci mette nell'eucaristia e che forse è l'unica cosa che desidera profondamente anche da me e dagli altri fratelli che viviamo il nostro ministero con grande passione Quell'intimità con quell'eucaristia che sembra essere veramente è carne forse ci costringe anche ad accostarci in maniera diversa Don Francesco Paolo papà ha fatto da poco cento anni Guardate questa foto intanto vuol dire molto questa era la torta di compleanno Mi dice cosa sente dal suo cuore sgorgare di fronte a questa foto lei a papà cosa si sente di dire? Di ringraziare innanzitutto il Signore per lui e che si è che continua ad essere questa grazia finché il Signore dona il tempo di vivere e di portare e di essere un servizio di amore di passione come già l'ha avuto fino adesso di continuare adesso fino all'ultimo Don Giuseppe cosa è la cosa più bella di papà per cui lei vorrebbe assomigliarli anche sia umanamente che come sacerdote? Ha questa passione per Gesù e per le persone che gli sono affidate Lui quando deve parlare del Signore si trasforma magari a tutti i mali e tanti problemi però nel momento in cui c'è qualcuno che gli chiede di confessarsi, gli chiede un consiglio oppure celebra la messa si trasforma perché si rende conto che c'è sicuramente una grazia di Dio molto più grande di quello che lui è modamente ecco possiamo dire che padre Pio ci ha visto giusto con questa famiglia Vaccarini che è stata uno degli incontri più belli che abbiamo fatto in questo studio io vi ringrazio dal profondo del cuore soprattutto per quello che riuscite ad essere per le vostre comunità vi ringrazio dal profondo del cuore la famiglia Vaccarini non si dimentica più e un abbraccio a Don Provo io ringrazio di cuore Don Francesco Paolo e Don Di Sacco fortunati chi vi ha come pastori ce ne andiamo in pubblicità e poi oltrepassiamo le frontiere ce ne andiamo addirittura a Lourdes perché qui sta per arrivare la storia incantevole di Bernadette come non l'avete mai sentita grazie grazie grazie